Ciao a tutti, sono i più fedeli, ma se li tradisci è finito. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, ci sono dei sezioni zodiacali che sono fedeli, sono i più fedeli, ma non tollerano però il tradimento, non riescono, non sono proprio strutturati per perdonare il tradimento. Se tu li tradisci, la relazione è finita, completamente finita, non c'è più possibilità in nessun modo di riprenderla, di farla rivivere. Non esiste più questa possibilità. Hanno questa caratteristica che la fedeltà è una fedeltà solo se è reciproca. Lasciano completamente se non accetti questa, cioè se non attiettiena questa regola. Quali sono questi segni zodiacali, diciamo, che hanno queste caratteristiche? Allora, sono pesci, toro e scorpione. Pesci, toro e scorpione sono segni che sono tendenzialmente fedeli. Il toro è più fedele di tutto, però anche pesci è un segno fedele. Lo scorpione è anche, da un punto di vista appassionale, tradisce se ci sono, se non viene rispettata la personalità, lasciano. Ma soprattutto hanno una caratteristica di questi tre segni che non tollerano il tradimento. Cioè, sono persone estremamente fedeli, diciamo, se più di più il toro, messi in ordine sono il toro, il pesce e lo scorpione, a livello di fedeltà. Ma tutti e tre questi sono comunque segni tendenzialmente fedeli, ma non hanno la minima tolleranza verso il tradimento. Se si rendono conto che il partner tradisce, non danno possibilità di scampo, chiudono comunque la relazione. Piuttosto soffrono, piuttosto vivono una sofferenza, ma chiudono la relazione. Perché? Per loro il tradimento, l'infedeltà è come fosse un gravissimo insulto, come se li avessi proprio veramente umiliati in questo modo. Non riescono ad accettare tante cose, ma il tradimento non riescono ad accettarlo. Quindi attenzione che se hai una relazione con uno di questi tre segni, ripeto, i pesci, il toro e lo scorpione, hai una buona garanzia di fedeltà, nel senso che ovviamente poi tutto, proprio statisticamente, hanno una buona garanzia di fedeltà, ma hanno anche una bassissima soglia di tolleranza all'infedeltà. Cioè non la tollerano. Talvolta non tollerano neanche, tra virgolette, il flirting virtuale, le relazioni virtuali, che poi spesso nascono, relazioni flirt virtuali, insomma, che non si concretizzano mai sul reale. E poi questi tre segni non tollerano assolutamente questa cosa qua. Quindi attenzione perché rischieresti di rovinare una relazione con una persona che è comunque di fatto fedele. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao!